Ma no ragazzi, questo è FN e bentornati nel secondo canale Come avrete capito questo è l'annuncio streaming per appunto la streaming che si terrà domani pomeriggio Però non è un semplice annuncio streaming ragazzi, perché volevo ricordarvi che nella descrizione di questo video troverete il link che vi porta alla mia pagina di Facebook Perché la pagina di Facebook? Perché ho organizzato insieme a Distant Gaming un contest con il quale Se arriviamo a 10.000 condivisioni potete vincere, tra i giochi qualsiasi dal sito è la mia maglietta di Stephanie La mia maglietta! Sono contento di riuscire a portarvi ogni tanto queste cose anche per ringraziarvi magari di tutto il supporto che giorno dopo giorno mi date qui sulla pagina di Facebook, su Instagram, ovunque Mi raccomando partecipare è semplicissimo, dovete mettere mi piace alla pagina di Distant Gaming Italia e condividere quel post di Facebook, quindi andate a condividerlo mi raccomando Inoltre volevo dirvi che domani, sempre nella streaming, giocheremo a Smite Perché finalmente Vegas ha avuto il computer nuovo Vi lascio il link di Smite in descrizione se voleste scaricarvelo Così magari possiamo giocare assieme e fare delle partite 5 contro 5 Gli dei che scendano sulla terra! Ok sono abbastanza stupido, vabbè lo ammetto Quindi mi raccomando domani streaming, giocheremo a Smite, giocheremo a Minecraft, Contest Distant Gaming E oggi sul primo canale escono 3 video totalmente epici Quindi vi consiglio di andare a vederveli ragazzi Ciao! Ciao!